Lavarsi i piedi gli uni gli altri è anticipo dell'esperienza di ressurrezione già in questa vita. È la riflessione del Vescovo De Vasini che ha preseduto il rito in cena domini in una casa di riposo di lavagna. Dio non si stanca mai di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono, le parole di Francesco nella Santa Messa del Giovedì Santo celebrato nella sezione femminile del carcere di Re Bibbia. Nella Santa Messa Crismale del Giovedì Santo il Papa rivolgendosi ai sacerdoti ha chiesto di stare attenti all'ipocresia clericale invitandoli alla compunzione per purificare il cuore dal peccato e aprirlo alla misericordia. Inizieranno tra qualche giorno i lavori per la posa del tubo di collegamento tra il sottopasso di Viale Millo e la Colmata per cucire la rete fognaria con l'area dove sorgerà il nuovo depuratore di Chiavari. Il cantiere fino a maggio, poi lo stop per l'estate. Più di 100 persone assistite in sei centri, l'Anfas, Villa Gemelli e Di Rapallo, ha organizzato un open day per raccontare le sue attività alla cittadinanza in occasione del 66esimo compleanno di Anfas a livello nazionale. Due classi del liceo Gianelli di Chiavari si affacciano alla subacquea con Cambiare Prospettiva, il progetto di Underwater Tales che li porta a scoprire un mondo che può diventare un giorno anche un lavoro. Segni di ressurrezione, la trasmissione proposta da tutte le reti dell'Associazione Il Corallo in onda sabato santo alle 17.30, un raccordo che passa attraverso la passione, la croce, il calvario e la ressurrezione di Cristo. Buonasera, buonasera a tutti gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Le celebrazioni del giovedì santo ci introducono nel triduo pasquale. Il vescovo Monsignor Giampio De Vasini ha preseduto nel pomeriggio la messa in cena domini nella casa di riposo devoto Marini di Lavagna. Al termine della celebrazione del giovedì santo il santissimo sacramento dell'eucarestia viene posto nell'altare della reposizione. Ogni rito riporta alla memoria i gesti compiuti da Cristo negli ultimi giorni della sua vita terrena, passando dalla sofferenza, la passione, la morte e poi alla ressurrezione che, come ha spiegato il vescovo, è per tutti il servizio. Lo vediamo insieme. La morte è un passaggio doloroso, faticoso, oscuro, ma ci introduce nella vita senza tramonto e questo il messaggio essenziale che emerge dai riti del triduo pasquale. A richiamarlo è stato il vescovo Giampio De Vasini che ha preseduto la celebrazione in cena domini nella casa di riposo devoto Marini a Lavagna. La settimana santa si apre con il racconto della passione e morte di Gesù e si chiude con il racconto della ressurrezione. In mezzo ci invita a far memoria degli ultimi eventi terreni della vita di Gesù. L'ultima cena, l'istituzione dell'eucaristia e del sacerdozio ministeriale ci rivelano il volto di Dio che Gesù è venuto a narrarci. Qual è dunque il vero volto di Dio? È il volto di un Dio che non è buono, è esclusivamente buono. È il volto di un Dio che non esclude nessuno dal suo amore. È il volto di un Dio che non si merita ma si accoglie. È il volto di un Dio che non aspetta ad amarci se e quando diventiamo buoni ma ci ama perché sperimentando il suo amore possiamo diventare buoni. Il traguardo ultimo è la ressurrezione proprio come promesso da Gesù durante la vita terrena. Già in questa vita possiamo infatti pregustare in anticipo la ressurrezione spiega il Vescovo usando un'immagine che si compie nel rito del Giovedì Santo. Tutte le volte che ci laviamo i piedi gli uni gli altri facciamo esperienza già qua sulla terra di risurrezione, di passaggio da morte a vita, di passaggio da una vita brutta, qual è una vita in cui non c'è amore, ad una vita bella, vera, realizzata, consistente, qual è una vita in cui c'è amore. Facciamo esperienza di risurrezione qua sulla terra tutte le volte che ci amiamo gli uni gli altri come Gesù ci ha amato. E questa sera a partire dalle ore 21 Telepace proporrà un momento di preghiera all'altare della Reposizione. In diretta dalla Cattedrale Basilica di Nostra Signora dell'Orto in Chiavari seguiremo l'adorazione eucaristica comunitaria guidata da Don Andrea Buffoli. Seguirà un tempo di preghiera con le immagini degli altari della Reposizione allestiti nelle parrocchie della nostra Diocesi. Ricordiamo gli appuntamenti di domani, venerdì santo, alle ore 10 a Zoaglie la Via Crucis dei Giovani organizzata da Azione Cattolica Ragazzi. Alle ore 18 in diretta dalla Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto ci collegheremo per la trasmissione del rito in passione domini preseduta dal nostro Vescovo Diocesano. In serata alle 21 con partenza dal lungomare di Chiavari si svolgerà la Via Crucis cittadina guidata sempre dal nostro Vescovo. Il Pontefice ha celebrato la Santa Messa del Giovedì Santo oggi pomeriggio nella sezione femminile del carcere di Re Bibbia a Roma. Vediamo. La lavanda dei piedi è il gesto con cui Gesù dimostra una cosa che ripeteva a tempo. Io non sono venuto per essere servito ma sono venuto per servire. Così il Papa inizia l'Omelia durante la Messa del Giovedì Santo celebrata nella sezione femminile del carcere di Re Bibbia a Roma insieme a molte delle donne detenute. Il Signore insegna il cammino del servizio con un gesto concreto. L'altro momento centrale della cena, prosegue Francesco, è il tradimento di Giuda incapace di portare avanti l'amore e che si fa acceccare dai soldi. Nonostante questo Gesù lo perdona, perdona tutti, perdona sempre. L'unica condizione è che chi sbaglia chieda di essere perdonato. Una volta ho sentito una vecchietta saggia, una vecchietta nonna del popolo, ha detto così, Gesù non si stanca mai di perdonare, siamo noi a stancarci di chiedere perdono. Chiediamo oggi al Signore la grazia di non stancarsi. Sempre, tutti noi abbiamo piccoli fallimenti, grandi fallimenti, ognuno ha la propria storia, ma il Signore si aspetta sempre con le braccia aperte e non si stanca mai di perdonare. Nonostante le difficoltà a deambulare, dopo l'Omelia il Papa ha lavato i piedi ad alcune delle donne che sono detenute di Bibbia ed erano presenti alla messa. Un momento vissuto anche con commozione. Nella Santa Messa Crismale del Giovedì Santo, Papa Francesco ha invitato i sacerdoti presenti a riscoprire la bellezza della compunzione, del farsi trafiggere dal pentimento. Un pianto amaro può cambiare la vita, ogni rinascita interiore nasce sempre dall'incontro tra la nostra miseria e la sua misericordia. La sintesi nel servizio che segue. Anche il cuore di Pietro, il primo pastore della nostra chiesa, ha avuto bisogno di guarigione. Lo rileva il Papa durante la Messa Crismale dinanzi a circa 1500 sacerdoti radunati nella Basilica Vaticana. La guarigione del pastore, spiega Francesco, avviene quando, ferito e pentito, si lascia perdonare da Gesù. Per chiarire questo passaggio il Papa parla della compunzione, definendola una puntura sul cuore. Non è un senso di colpa che butta a terra, non una scrupolosità che paralizza, ma è una puntura benefica che brucia dentro e guarisce perché il cuore, quando vede il proprio male e si riconosce pecatore, si apre, accoglie l'azione dello Spirito Santo, acqua viva che lo smuove, facendo scorrere le lacrime sul volto. Non significa piangerci addosso come spesso siamo tentati di fare, prosegue Francesco. Piangere su noi stessi, spiega, è pentirsi del peccato, riconoscersi sempre in debito e mai in credito, ammettere di aver smarrito la via della santità. E scendere nei meandri della mia ipocrisia, l'ipocrisia clericale, cari fratelli, quella ipocrisia nella quale ci voliamo tanto, tanto. State attenti alla ipocrisia clericale. La compunzione va richiesta con la preghiera, per facilitarne la crescita il Papa suggerisce due consigli, non guardare la vita e la chiamata in una prospettiva di efficienza e immediatezza, ma nell'insieme del passato e del futuro. Riscoprire la preghiera gratuita, calma e prolungata. Grazie perché portate la meraviglia della misericordia. Perdonate sempre, siate misericordiosi, che portate questa misericordia a Dio, ai fratelli e alle sorelle del nostro tempo. Lasciamo la pagina eclesiale incentrata nel tempo di Pasqua. Parliamo di allerta meteo perché si è conclusa alle ore 18 di quest'oggi. L'allerta meteo gialla sul Levante della Liguria è relativa ai bacini più grandi. Alle 15 era cessata quella per i bacini medi e piccoli. In mattinata si sono registrati pioggia abbondanti, soprattutto sul centro Levante, sino a 82 mm a Bargone, nel comune di Casarza Ligure. Hanno portato il Vara, l'Ambira, la Soglia di Guardia, mentre il primo livello è stato superato anche a Brugnato. Molto intense le raffiche di vento, con valori prossimi ai 200 km orari sui crinali più esposti, come Casoni di Suvero, è superiore ai 100 km orari anche sulla costa, come alla Spezia, dove l'anemometro è arrivato addirittura a 113 km orari. Proseguirà a fase alterna e la mareggiata, soprattutto sul centro Levante, con momenti di apparente rallentamento del moto ondoso, destinato però a riprendere vigore sino alla giornata di domani. Nelle ultime settimane in Liguria sono stati registrati sei casi di morbillo, un numero non molto alto, ma comunque rilevante dopo anni in cui il virus non era circolato. Cinque sono stati segnalati a Genova, tra persone di età tra i 30 e i 50 anni, uno nell'imperiese che ha riguardato un bambino di otto anni. Uno dei pazienti risulta vaccinato con singola dose, quattro pazienti sono non vaccinati. Il 31 di marzo è fissata la scadenza per il rinnovo annuale dei certificati di esenzione del ticket sanitario. La scadenza non vale per gli ultra 65 anni e per i bambini sotto i 6 anni, per i quali Regione Liguria ha deciso di prorogare automaticamente la validità dei certificati a condizioni di reddito invariate. È possibile rinnovare l'esenzione anche dopo il 31 marzo, in particolare si può chiedere il rinnovo del certificato direttamente nel momento in cui ci sia bisogno di una richiesta medica. Inizieranno appena possibile, subito dopo la Pasqua, i lavori per la posa del primo tubo di collegamento tra la zona del sottopasso di Corso Millo e la Colmata, un intervento che IREN esegue per cucire la rete fognaria con l'area dove sorgerà il nuovo depuratore di Chiavari. Il cantiere sarà aperto fino al mese di maggio, poi ci sarà lo stop per l'estate. Vediamo. Sindaco, quando inizieranno i lavori per la posa della prima tubazione che interesserà il lungomare di Chiavari? Molto presto, il prima possibile, in modo da portarsi avanti al massimo, perché poi il 15 maggio saranno lavori interrotti, perché c'è la stagione estiva balneare, un po' come i pennelli, per poi riprendere a settembre. E la durata complessiva, quanto è stata stimata da IREN? Mi sembra di capire, di aver letto, che torna i due mesi, quindi poi, salvo che non ci siano problematiche, ma hanno già fatto dei carotaggi, quindi per vedere i sottoservizi e quindi vedere se possono passare delle possibili interferenze, in teoria siamo nell'ordine dei due mesi. Quanto sarà l'ingombro della carreggiata e quindi, diciamo così, quanto interferirà col traffico del lungomare di Chiavari? Abbiamo dato disposizione che ci sia il minor disagio possibile e che ci sia anche un calcolo della fine delle scuole e il rinizio delle scuole, in modo da permettere che non ci siano accavallamenti. Sicuramente cercheremo di evitare senso unico alternato compatibilmente con le esigenze di cantiere. Quindi probabilmente potrebbe esserci qualche piccolo disagio in questa fase primaverile, soprattutto? Diciamo che se partono al più presto, come pensiamo noi, perché la richiesta del dottor Asuola è già stata fatta, sicuramente qualche disagio verso la fine dell'attività scolastica, quindi verso fine maggio ci potrebbero essere, ma siamo abbastanza fiduciosi, siamo molto rigidi nel far rispettare le nostre volontà, che è quello ovviamente di creare il minore disagio possibile a tutti i cittadini. Ha preso il via da Varese Ligure la terza tappa del Liguria Rigenera Tour, dedicata al territorio della provincia di La Spezia. L'assessore regionale all'urbanistica Marco Scaiola, accompagnato dal sindaco Giancarlo Lucchetti, ha visitato il cantiere in corso per il recupero del Castello dei Fieschi e dell'antistante piazza Vittorio Emanuele. Intervento che prevede un investimento di 270 mila euro, di cui 250 mila, provenienti da un finanziamento regionale. Questo lavoro mira la valorizzazione storico-culturale del contesto di uno dei borghi più belli e caratteristici d'Italia e del suo simbolico castello. Prosegue a Recco l'intervento di rinnovamento del lungomare Bettolo, dove attualmente è in corso la realizzazione della pavimentazione. Tra gli interventi in programma c'è la realizzazione di una nuova area gioco per i più piccoli. Il progetto prevede lo spostamento dei giochi esistenti, l'arrivo di nuovi, tra cui un grande veliero, e l'installazione di pavimentazione antitrauma. I lavori sono stati affidati all'impresa Compagnitalia per un importo di 154.856 euro. Questa mattina, questa mattina, l'ANFAS Villa Gimelli a Rapallo ha organizzato un Open Day rivolto a tutta la cittadinanza per mostrare quali sono le attività che si fanno nei diversi centri gestiti da questa associazione, con oltre un centinaio di persone assistite. Un'iniziativa organizzata in concomitanza col compleanno dell'ANFAS nazionale. Noi siamo andati a Rapallo. Il 28 marzo del 1958, un gruppo di famiglia Roma fondava l'ANFAS, l'associazione che ancora 66 anni dopo si occupa della tutela dei diritti di persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, con oltre 50 centri su tutto il territorio nazionale. Uno di questi è quello di Villa Gimelli a Rapallo, che nell'occasione ha organizzato un Open Day, un modo per presentare le loro attività alla cittadinanza, ma anche di coinvolgere le famiglie delle persone assistite e i volontari che frequentano i centri. I ragazzi sono sempre al centro, al centro di tutti i nostri interventi. Proprio tutto quello che si fa è proprio tenendo conto dei loro bisogni. Quindi tutti i sostegni, i supporti che noi mettiamo in campo e anche l'inclusione sociale sul territorio e anche far venire la gente qui è proprio per rispetto per i loro diritti. Anfas Villa Gimelli segue oltre 100 persone, 15 nel centro diurno, 18 nella struttura residenziale di Villa Gimelli e 12 in quella di San Michele di Pagana, 8 nell'appartamento dopo di noi e una sessantina di bambini e bambine nel servizio ambulatoriale. La nostra attività su tutto al mattino è principalmente volta a permettere a questi ragazzi di espirare un po' le proprie capacità manuali che non sono poche. Noi siamo abituati a vedere in questi ragazzi quello che non va, invece noi vediamo quello che va, cerchiamo di tirare fuori quello che è positivo in loro. I aspetti che riusciamo a costruire sono di buona qualità. Magari facciamo delle cosine semplici, li aiutiamo, loro fanno qualcosa, quello che riescono, come diceva Maria, e magari anche solo incollare qualcosa, parlare, scherzare, dire preferisci questo colore, preferisci quello. Sono cose come vedete molto semplici, però sono quelle che riempiono un po' la giornata e che li fanno sentire importanti. Per chi gestisce queste strutture ci sono però anche dei problemi, in particolare per i costi che negli ultimi anni sono aumentati sensibilmente. Abbiamo avuto il Covid, abbiamo avuto la guerra, pertanto ha raddoppiato le spese energetiche, le spese alimentari, più siamo prossimi al rinnovo contrattuale, perché anche noi abbiamo cinquantina di vendenti, come ho detto prima, che hanno un contratto nazionale Anfas, che è scaduto nel 2009, e pertanto sono sei anni e bisogna rinnovare. Questo comporta sicuramente un aumento, e pertanto potete immaginare. La cronaca, un lutto improvviso ha colpito la comunità di Villa Uneto a San Colombano-Certenoli. Questa mattina è mancato improvvisamente Walter Cevolatti, cinquantottenne, originario di Legnano, tra diversi anni residente sulle alture del comune Fontanino. Insieme alla moglie Maria gestiva il negozio di alimentari a San Bartolomeo di Leivi. L'attività commerciale era stata rilevata nel 2017, contribuendo così a mantenere attivo un servizio molto importante per il paese. Precedentemente Walter e Maria avevano un'attività di ristorazione. Uomo gioviale, sempre sorridente, in breve tempo aveva saputo catturare la simpatia di tanti clienti e amici con i quali condivideva anche le passioni sportive. Quella per il commercio e la ristorazione era una vera e propria vocazione che aveva trasmesso anche al figlio Marco, prematuramente scomparso in un incidente stradale. Walter lascia oltre alla moglie, la madre Wanda, i fratelli Maurizio, Barbara e Gabriella, la suocera e tanti amici afflitti alla notizia della sua scomparsa. La salma sarà traslata domani pomeriggio alle ore 15 al Tempio Crematorio di Staglieno. Alla moglie, a tutti i familiari, va la vicinanza da parte di tutto lo staff di Tele Radio Pace. Conoscere l'ambiente marino, imparare ad andare sott'acqua, sviluppare una cultura rispettosa dell'ambiente, prendere in considerazione il mare come opportunità di lavoro. Con questi obiettivi nasce Cambiare Prospettiva, il progetto che Underwater Tales realizza con lezioni in classe e uscita con due classi del liceo scientifico sportivo Giannelli Campus di Chiavari. Questa mattina c'è stata la presentazione, noi eravamo presenti. Nasce dalla passione di una insegnante, Elisa Vaccarezza, il progetto che coinvolge la terza e la quarta liceo scientifico sportivo Giannelli Campus di Chiavari per avvicinare al mare e in particolare alla subacquea ragazze e ragazzi. Diciamo che non è stato semplicissimo, non è stato semplicissimo perché purtroppo il nostro territorio nonostante sia realmente favorevole dal punto di vista geografico a tutti quelli sport acquatici e soprattutto al diving non è espresso nel senso che comunque la cittadinanza locale non lo pratica. Grazie alla collaborazione con Underwater Tales, un'associazione impegnata nella diffusione della cultura subacquea nata dal blog omonimo nel 2017, cambiare prospettiva questo è il progetto patrocinato dal comune di Chiavari li avvicinerà al mare con diverse attività. Il nostro obiettivo è avvicinarli al mare quindi fargli conoscere che cosa c'è sott'acqua e qual è come è delicato l'equilibrio del mare soprattutto sott'acqua poi impareranno anche a utilizzare l'attrezzatura subacquea perché comunque la subacquea può anche essere un lavoro in futuro e poi soprattutto faranno la pulizia delle spiagge che secondo me non è tanto il contributo che daremo perché comunque puliremo un tratto molto piccolo di spiaggia quanto il riuscire a capire effettivamente che cosa c'è se noi cominciamo a guardare le spiagge Nel Tiguglio ci sono diving a Lavagna, Rapallo, Santa Margherita a Sestri Levante frequentati più da turisti che da persone che vivono nel nostro territorio il progetto di Underwater Tales parte dalla biologia marina per arrivare ad uno sguardo nuovo sul mare e gode della collaborazione di SEAC Sub e Chiava Rinuoto Le prossime iniziative inizieranno già da questo 12 aprile che andremo a fare la visita direttamente nell'azienda leader nel settore della subacqua alla SEAC dopodiché faremo delle lezioni di nuovo in aula per prepararci all'immersione diciamo chiamiamola battesimo che eventualmente può avere anche una successiva formazione per ottenere un brevetto con un PCTO finalizzato Quando questi ragazzi quest'estate andranno al mare con gli amici probabilmente se bevono una bibita porteranno via la lattina o porteranno via la cannuccia questa è la cosa più importante Grazie a 20 podi la società di arti marziali CSK 1978 ha conquistato il 12esimo titolo regionale FESIC CSI domenica al palazzetto di Manesseno in provincia di Genova ecco le immagini che si riferiscono appunto alla premiazione gli atleti delle tre palestre di Lavagna San Salvatore e Carasco hanno portato a casa ben 20 medaglie nel Cata esercizi di forme 18 individuali e 2 a squadre consentendo così alla propria società di piazzarsi al primo posto in questa specialità su 12 società partecipanti nelle cumite che al combattimento hanno conquistato 13 medaglie e sono arrivati i quinti anche l'anno scorso la CSK 1978 aveva vinto un titolo regionale il FESIC CSI a Vezzano Ligure Ancora cronaca due 19 anni sono stati arrestati dalla polizia a Genova perché ritenuti responsabili di una rapina aggravata commessa a novembre ai danni di un minore i fatti sarebbero avvenuti nei giardini di Corso Carbonara i due giovani avrebbero spruzzato dello spray al peperoncino sul volto del minorenne spingendolo a terra e colpendolo per poi rubargli il cellulare il contante e la carta di identità attraverso le telecamere di videosorveglianza i tabulati telefonici sarebbero stati individuati due giovani che dopo essersi dati alla fuga si sarebbero scoperti il viso e levati gli abiti scuri che indossavano il tribunale di Genova ha disposto la custodia cautelare in carcere sono stati gli abiti a rendere riconoscibile un uomo un 26enne di origine straniera condotto in carcere dalla polizia di Genova perché è ritenuto responsabile di una rapina e di un'aggressione avvenuta in autunno nel centro storico secondo la questura ha rapinato un uomo portandoli via al marsupio nel centro storico del capoluogo scaraventandolo a terra il giorno successivo quando ha incontrato nuovamente la vittima gli ha chiesto dei soldi lo ha colpito con una bottiglia e gli ha causato una ferita al cranio anche in questo caso sono state decisive le immagini delle telecamere i carabinieri del nucleo radiomobile di Santa Margherita Ligure hanno ritirato la patente di guide e sequestrato l'automobile a un 39enne straniero risultato positivo all'alcol test l'uomo dopo aver causato un sinistro stradale a Rapallo sarebbe risultato con un tasso alcolemico pari a 1,557 grammi per litro e adesso andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani venerdì santo appuntamenti in agenda per venerdì 29 marzo terzo appuntamento del ciclo di incontri organizzati dall'associazione Un Granello Gli Sale a Seste Levante in via 27 settembre 33 dalle ore 17 si parla di salute fisica e psicologica delle donne presentazione presentazione del libro l'albero della cuccagna paesaggio alimentazione e cucina nella Liguta di Levante di Giorgio Getto Viarengo alle 17 nel museo archeologico di Sesti Levante in corso Colombo 50 primo incontro sulla sicurezza informatica dalle 17 alle 19 nella sede della Lega Navale di Chiavari la scuola di telecomunicazioni delle forze armate illustra i metodi con cui difendersi dagli attacchi di fishing al circolo al cerchidea di Santa Margherita Ligure Nathan Chiboba va in scena con lo show simpatico spettacolo al viale 22 circolo aperto dalle 21.30 il costo dell'ingresso è di 10 euro anche per la Pasqua così come era caduto per Natale le emittenti associate a Corallo TV proporranno contemporaneamente la trasmissione segni di resurrezione è un racconto che passa attraverso la passione di Cristo la croce il calvario sino alla resurrezione andrà in onda nel pomeriggio di sabato sabato santo alle 17.30 in attesa della solenne veglia pasquale alcune anticipazioni nel servizio che segue un racconto che passa attraverso la passione di Cristo la croce e il calvario fino alla resurrezione dal santuario della Verna in Toscana in occasione dell'ottavo centenario delle stimmate di San Francesco segni di resurrezione un viaggio realizzato dalle tv del corallo alla scoperta dei luoghi della fede e della devozione popolare storie che parlano di morte e rinascita di malattia e ripartenza nell'attesa della luce della risurrezione con corallo tv sabato 30 marzo dalle 17.30 bene con quest'ultima notizia termina il giornale anche per questa sera prossimo appuntamento con l'informazione è rinnovato a domani alle 12.45 con il Tg di Telepace io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione auguro a voi tutti una buona serata con i programmi della rete arrivederci grazie